Per installare ArubaSign, accedi dal tuo browser all'indirizzo www.pec.it. Nel menu in alto, seleziona Gestione e supporto, Firma digitale e accedi a Software, Driver, App. Poi seleziona Software per firmare. Da Software ArubaSign, clicca sul pulsante Scarica corrispondente al sistema operativo da te in uso. Scarica il file di installazione. Una volta ultimato il download del file, avvialo con doppio clic. Installa il software utilizzando la procedura guidata e attendi il completamento dell'installazione di ArubaSign sul computer. Mantieni attivo il checkbox indicato se preferisci avviare il software al termine dell'installazione. Clicca su Fine. Completata l'installazione, visualizzerai sul desktop l'icona ArubaSign, che ti consentirà l'avvio e l'utilizzo del programma. Carica il documento da firmare cliccando su Seleziona documenti, oppure trascinalo all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto colonna Documenti firmati è possibile rinominare i file. Una volta caricato il file, dal menu a tendina indicato, seleziona la tipologia di firma desiderata. Se sei in possesso di marche temporali, oltre alla firma puoi apporre al file una marcatura temporale. Ti basta inserire il flag in corrispondenza della voce Marca temporale e selezionare il formato che desideri dall'apposito menu a tendina. Abilita il checkbox indicato per salvare i file nella cartella di origine, oppure clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Clicca Prosegui e firma. Al punto 1, clicca sulla freccia e seleziona Firma remota. Al punto 2, inserisci il nome utente e la password della firma remota. Clicca Prosegui. Nella schermata successiva, inserisci il codice OTP generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo OTP USB, in base al generatore di OTP che hai acquistato. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzare in chiaro il codice. Infine, clicca Firma. Al termine dell'operazione, si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato, oppure clicca su Chiudi. Per firmare più documenti contemporaneamente con ArubaSign, basta utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file, con la differenza che questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione.